uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiodarone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiodar e ragazzi finalmente lo vediamo completo il robot con la patch 9.40 ragazzi arriva la parte finale quella che tutti aspettavamo ma nessuno si aspettava la colorazione pensavo fosse bianco ed invece guardate che meraviglia ragazzi riprende tutti i colori degli stili di singolarità ragazzi e come vedete è veramente veramente meraviglioso ragazzi sto cercando intanto di fare uno screen mentre ci siamo vicini le braccia vanno a riprendere il rex e vanno a riprendere il burger la parte alta dove c'è la testa ragazzi è chiaramente un omaggio al cuddle team leader e come vedete ragazzi le gambe di color rosso no il burger è una gamba il tomato è un'altra gamba e questo è alla deriva questo è alla deriva ragazzi robot completo robot veramente meraviglioso ragazzi guardate che storia guardate che storia con tanto con tanto di cuore spezzato sul petto io vi invito davvero ragazzi ad andare a guardarlo perché è meraviglioso questo braccio mi piace tantissimo mi piace veramente tantissimo le ali dietro sono rosa e direi che hanno fatto veramente un gran capolavoro ragazzi super pollicione per il robot che è cambiato mi raccomando un pollicione in su iscrivetevi al canale non sto andando via chat noi ci vediamo in live ciao grazie